ciao a tutti i ragazzi e bentornati sul nostro canale io sono anita e come sempre questo è curiosando lanzarote prima di tutto volevo ringraziarvi per aver partecipato alla diretta di oggi e vi volevo ancora una volta ricordare nel caso in cui non l'abbiamo ancora fatto di cliccare sul pulsante iscriviti e attivate la campanella così da non perdervi nessuno dei nostri video ed in più nelle impostazioni potete andare e selezionare una tra le moltissime lingue disponibili per i sottotitoli bene quest'oggi sono qui ho deciso di farmi una bella passeggiata qui nell'avenida sul mare devo però ahimè ammettere che oggi ci sono veramente pochissime persone in giro certo il tempo non aiuta perché ci sono 20 gradi questa mattina ce n'erano 18 e un po nuvolo un po sole un po nuvolo un po sole però comunque io la mia classica passeggiata me la sono fatta e vi ho portato con me bene ragazzi io adesso vi lascio al video e ci vediamo come sempre più tardi ciao 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 bene ragazzi io stavo già rientrando a casa ma mi sono accorta che mi mancano un paio di cose per la cena di questa sera quindi vado un secondo al supermercato rapidamente per acquistare quello che mi manca io vi saluto vi do appuntamento domani con un nuovo video e come sempre se vi è piaciuto lasciatemi un like che mi fa sempre tanto tanto piacere buona serata a tutti e a domani stessa ora sempre su curiosando Lanzarote ciao un abbraccio grande a tutti buona serata